Il vuoto dentro te non si colma più Il motivo di restare e ora sei sola ed ora io non ti penso E ora sei sola ed ora sei solo un desiderio La parola amore in quanti l'hanno conosciuta Quante persone possono dire di averla vissuta Quante sanno cos'è solo per sentito dire Quanti ci hanno rinunciato adesso stanno a contrire Con l'amore un tempo ci passavi tutta la vita Adesso il giorno prima gridano ti amo Il giorno dopo la storia è finita Il tempo di scrivere quella parola di cinque lettere con la matita Ma c'è ancora chi crede che l'amore possa soddisfare la loro sete Aspettando qualcosa che non arriva Non aspettare e lasciare che venga da sé E questa è l'alternativa So anche che credico bene era solo male Perciò quello che ho detto prima non lo ascoltare Se vuoi qualcosa non lasciartela scappare Altrimenti rimpiangerai quello che hai perso Ci starai male Voto dentro te non si colma più Adesso non sai cosa fare L'abbandono l'hai provato anche tu Un nuovo motivo di restare E ora sei sola Ed ora io non ti penso E ora sei sola Ed ora sei solo Buongiorno come tutte le mattine Soltanto che questo è Un buongiorno sì ma per finire Invertire rotta dal tuo cinismo corrotta Per te ero denaro ma adesso sei in banca rotta Volevi l'intesa allora cerchati una banca Ti credevi santa ma alla fine dei giochi carta canta Ore undici arriva una tua chiamata Non ti rispondo la mia vita è come un computer riavviata Prima eravamo uniti tipo stretti da un laccio Lo stesso che vorrà il tornato collo cuore di ghiaccio Dagli errori che ho fatto imparerò Dalle ceneri come la felice risorgerò Non mi fido di te né di nessuno Ti lascerei come pannella a digiuno Questo è per te che ti tendi di storia Saresti stata la regina già ai tempi di troia Vuoto dentro te non si colma più Adesso non sai cosa fare L'abbandono l'hai provato anche tu Un nuovo motivo di restare E ora sei sola Ed ora io non ti penso E ora sei sola Ed ora sei solo E già vuoto dentro te non si colma più Ma sei solo un déjà vu L'abbandono l'hai provato anche tu Ma sei solo un déjà vu E ora sei sola Ed ora io non ti penso E ora sei sola Ed ora sei solo un déjà vu Benvenuti amici di Intervistare per fa' un freddo Siamo qui oggi con un super ospite d'onore Al Yeah Che partiamo subito Sciogliamo subito la situazione perché sto congelando Perché il nome Al? Il nome Al nasce da El Che è una rivista degli anni 90 Diminutivo anche di Alex Quindi bella sti cazzi Più facile di così si muore Quindi Alex Lazzarin Al Al del 90 1990 sono io Quindi Bella Semplice Poi adesso è uscito E l'abbiamo anche ascoltato Abbiamo visto anche degli spezzoni di video Dalwin volume 1 Perché il nome Dalwin? Cioè perché hai dato questo nome a lui? Dalwin praticamente è l'evoluzione Però non stile Darwin Messo Dalwin perché comunque vabbè Grazie al cazzo è il mio il disco Dalwin Però è l'evoluzione della musica in questo caso Il progetto iniziale era prendere una base Partire dalla base più vecchia Fino ad arrivare quella più Più attuale Poi alla fine ho fatto un po' di casini Ho preso basi un po' a cazzo Che mi piacevano a me Quindi poi È andata così Però il progetto iniziale era L'evoluzione della musica E penso Spero che sia piaciuto come progetto No no A parere mio è un disco bellissimo Che dovete ascoltare per forza E la domanda te l'avevo scritta prima Che tu iniziassi a lavorare Dalwin volume 2 Però te lo faccio lo stesso Che volevo chiederti Se uscirà Dalwin volume 2 E uscirà Dalwin volume 2 Sì 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 Uscirà alla grande C'è differenze tra Dalwin e volume 1 Senza accennare magari il troppo Allora secondo me Mentre nel primo Ci ho messo veramente tanto A scriverlo Ma non perché non avessi voglia Perché Ero proprio in un periodo In cui c'evo la testa Per i cazzi miei Quindi Ci ho messo veramente tanto Mentre quel Dalwin volume Mentre Dalwin volume 2 Comunque ci ho messo veramente poco Ci ho messo A scriverlo Contando Più o meno i giorni All'incirca Ci avrò messo più o meno Uno o due mesi Sì sì Poi per registrare E robe Quelli sono altri cazzi Però Comunque non ci ho messo niente Per scriverlo Fondamentalmente È bella C'è questo qui Adesso spero che esca Il più presto possibile Spero che sia una bomba Che piaccia a tutti Sicuramente qualche video Sì 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 Quello sì Tra l'altro Ho fatto anche un progetto Che è in un portale Di internet Che si chiama tipo MusicRaiser Che è una cosa Che è una cosa che praticamente È un sito Che dà la possibilità Di sponsorizzarti O di farti sponsorizzare Diciamo Dalla gente che ti segue Ok Poi adesso invece Passiamo un po' Più su una certa esperienza E anche un bel po' Di visualizzazioni Che consigli O che consigli Potresti dare comunque A chi volesse iniziare A buttarti nel mondo Dell'hip hop O nel mondo della musica Cioè Comunque con l'esperienza Dietro che hai comunque Allora Per quanto Per quanto dici tu Che comunque Esperienza E robe Io penso che comunque Tutti Anche secondo me I più Quelli più in alto Tutto Hanno sempre Da imparare qualcosa Non penso che nessuno Sia arrivato al top Dicendo no Io so fare tutto Cioè So già fare tutto E sti cazzi Io penso che comunque C'ho un botto Da imparare Perché Ce n'è di strada Da fare Per essere un emergente Diciamo che comunque Le mie visual Me le faccio Ma non sono neanche Chissà quante Cioè sono Sulle 40.000 Penso Di arrivare sempre più in alto Quindi è una roba Sempre evolutiva Speriamo di arrivarci No quello sì Io penso che arriverai Speriamo E Invece Un tuo giudizio Sull'hip hop Con quell'evoluzione Dell'hip hop In questi ultimi anni Perché ha fatto È veramente un boom Assurdo Cioè un bene Un male Penso sia un bene Penso che ci sia Un bene E un male Il bene È che comunque Finalmente È arrivato a fare qualcosa In Italia Che prima Invece Se chiedevi Cos'era l'hip hop Magari la gente Non sapeva neanche Rispondere A che cazzo fosse Capito Mentre Mentre il male È che Essendo arrivato A così A così tante persone Tante persone Cioè sono sicure Che comunque Possono mettersi A fare rap Anche senza avere Una base Capito Tanti si buttano Magari Magari tipo Non è una critica Rispetto a loro Però Più che altro Non lo so Cioè Ascoltate i pezzi Prima di Prima di pubblicarli Sì no Quello sì Magari ascolti Giusto gli agganci metrici Un pochino Di cose Io non dico Di essere Uno dei più forti Anzi C'è no Di pasta asciutta Da mangiare Però Tanti secondo me Si sopravvalutano Ed è una cosa Che secondo me Non bisogna mai fare Bisogna essere Umili proprio Al cento per cento Perché sennò Non penso che vai avanti In sta strada No quello Io penso La penso Quella te Cioè di non montarsi Troppo la testa Quello Anche perché comunque Con le views Non è che ti paghi Le views Non pagano Chissà quanto Se qualcuno su youtube E poi per strada Non ti si incula Nessuno Non è che puoi fare Il montato Poi l'ultima domanda Che riguarda Il nostro canale Cosa ne pensi Comunque di canali Come il nostro Cioè come intervistare Rap perché magari Cercano di promuovere O intervistare Con quegli artisti Che meritano Penso che sia una buona cosa Perché Adesso comunque Fondamentalmente È internet Il posto in cui Vengono esposti Nuovi emergenti O comunque Nuovi rapper O cantanti Vedi te Videomaker O beatmaker Sì no Cioè dire che internet Poi adesso ormai È il mezzo Tipo Il mezzo principale Sì infatti È universale È per tutti Capito Sì no Quello è sì Cioè Quindi è una roba A cui può arrivare Un bambino A cui può arrivare Tuo padre Sì sì Possono arrivare Veramente tutti Quindi è una roba che Secondo me È una roba buona Che dei canali Possano far uscire Delle persone O farle conoscere E poi L'ultima che ho sbagliato Io te lo devo fare prima Però Ah sì tanto poi Sì sì Tanti pezzi Fidetti che non li dovrei usare Tipo quello Quello del montato Che non ti si incula Quello Lo taglio Lo taglialo Ah sì Ecco questo Anche questo Cancello Magari lo tengo Nel pistache Tu come hai iniziato A fare musica? Allora Questa è una roba Che anche Molte persone Mi chiedono Perché dicono È ovviamente Tramite tuo fratello Io penso che Posso dirti una volta Io quando sto parlando Non pensavo che ti ho fatto Lì tanti giuro Fatti Meno male No vabbè cioè Non meno male In senso che Non è che ho vergogna O roba Anzi Cioè sono orgogliosissimo Sì sì no Anzi è un maestro Comunque da seguire Sono orgogliosissimo Questo non mettiamo Perché Veramente Vabbè Come hai iniziato A fare musica? Ho iniziato A fare musica Allora Sarebbe una stronzata Dire che non mi sono ispirato Comunque In parte In piccola parte A mio fratello Perché comunque Quando lui faceva musica Io ero piccolo E mi vedevo lui In stanzetta Che registrava Capito Quindi Le sue robe Me le sentivo E E i primi passi Comunque Sono partiti da lì O dalla musica Che comunque Si ascoltava lui Che Che di conseguenza Ascoltavo io Tipo Vabbè Gli articolo Tormento E comunque Un botto di gente Che Ragazzini di adesso Non sanno neanche Chi cazzo sono Magari gli articolo Si per J-AX Tormento Magari tante persone Non lo conoscono Per me è veramente Un grande Però Sì naturalmente Si Ho si chiamato Yoshi Sì Yoshi era già Un bel ponte Io seguivo anche Un discorso Anche questa La taglia E niente Praticamente Le prime cose Che ho fatto Che scrivevo Perché non avevo ancora Basi Su cui rappare O robe Le prime cose Che scrivevo Non mi piaceva Ti parlo Quando ero alle medie Quindi Proprio da pischello Sì sì Le prime cose Che scrivevo Erano proprio Secondo me Boh Troppo superficiali Non mi piacevano Proprio per niente Quindi ho aspettato Ho aspettato Poi quando sono arrivato Alle superiori Mi sono beccato In studio Con un mio amico Yves E da lì Abbiamo detto Oh proviamo a fare un pezzo Ho provato a scrivere un pezzo E gli ho provato a registrarlo Abbiamo visto che comunque La metrica Non era una cosa Fortissima Però comunque Dicevi Cavolo Però Non è così male Quindi Boh Magari proviamo a incominciare A fare un progetto E da lì abbiamo incominciato A fare questo Demo Che era Che era? Al modo mio È talmente meglio Che non me lo ricordo Neanche io Primo primo Demo Sì sì Proprio il primo demo Che avevo fatto Che poi l'ho pubblicato dopo Tra l'altro Perché io l'avevo già finito prima Soltanto che non Non l'avevo pubblicato Su internet L'avevo tenuto un po' per me All'inizio Poi dopo l'ho pubblicato E Con Dei buoni riscontri Perché comunque Qualche pezzo Ho fatto Non essendo nessuno E pubblicando Proprio le due prime robe Su youtube Fare tipo 4.000 visite Con un pezzo Che non sei nessuno No quello Non era male Capito Sì sì Poi un altro pezzo Ha fatto 10.000 Cioè sono comunque robe Che dici cavolo E io che non volevo incominciare Ma penso che hai fatto Benissimo anche perché comunque Stai avendo molto Stai avendo un successo Dai buonino No ti dico così Perché non amo dire Che bomba Dei miei Dei miei lavori Capito Preferisco che siano gli altri Dirmi le robe Ma quello anzi È una cosa Perché se me la dico da solo Passo per quello che Oh micia ma quello Se la tira Come la maggior parte Dei ragazzi Che sento in giro Che dicono Oh micia Quello è bravissimo Però Sì sì Quello si Se la tira Quanto se la meno Io penso che comunque Le persone vadano sempre Conosciute Prima di giudicare Quello si È una cosa che Purtroppo pochi fanno Però vabbè Comunque Ognuno ha la sua vita Ognuno fa quello che vuole Io non sono qui A criticare nessuno Quindi Bella Dalwin volume 2 Allora Dalwin volume 1 Era Era una roba più pensata E comunque Ci ho messo un po' A scriverlo Volevo vedere Fino a che punto Potevo arrivare Più che altro E comunque Ho fatto quasi 4000 download Poi ti parlo L'ho saputo Tre mesi fa Che ho fatto 4000 download Magari sarà salito Di qualcosina Capito Mentre Dalwin volume 2 È una roba Molto più spontanea Cioè Mi inviavano le vasi O comunque Scaricavo la vade Che mi piaceva E Buttavo su rime Buttavo giù rime Che comunque Sentivo lì al momento Che mi passavano Per la testa È una roba Molto più spontanea E Ho comunque Collaborato con gente nuova E anche con miei amici Con cui esco dottora Quindi AMJ Che secondo me Spacca sia come beatmaker Che come rapper Yudan Che è comunque sempre Un mio amico Con cui ho collaborato Anzi Che tra poco Usciranno delle robe sue Con me E spaccano Poi me lo direte anche voi E Ho avuto la fortuna Di collaborare con Surf Che non lo conoscevo L'ho conosciuto È Una grandissima persona Sopre Mann Zef Ox e Principe Che mi hanno prodotto Due beat Comunque Gente comunque Di un certo spessore Sì Comunque Gente Con cui ho avuto Il piacere Veramente Di Di lavorare Perché secondo me Sono veramente Degli ottimi artisti Quindi comunque Sarà Un ottimo lavoro Che comunque Per forza Dovrà essere ascoltato Per forza Beh Per forza Quello lo decidete voi Io Spero che lo ascoltino tutti Sì Che faccia il botto Proprio Fino in America Però Cioè Sti cazzi A parte gli scherzi Spero che lo ascoltino Parecchie persone Perché comunque Non Non dico sempre Le solite cazzate Come Ti spacco Ti ammazzo Cioè Voglio dire qualcosa di più Rispetto alle solite robe Che magari possono dire tutti Quindi Bello Poi mi direte voi Ascoltatelo E Quindi aspettiamo il disco Buon ascolto Grazie mille Yeah Un saluto da Intervista Rapper E Al Dimmi cosa vedi quando mi guardi negli occhi Io vedo solo l'autostima Che scende a fiocchi Non si scioglie Crea soglie Il mio orologio biologico Sfasato Non sento più rintocchi Aspettative che rasentano il suolo Come un aereo Che sta per atterrare Dopo il volo Non mi lamento Non mi sento mai solo Ho più fan che amici In certi casi Posso dire che è un dono Occhi bassi Vedo i passi Strofondare nel terreno Sappie mobili invisibili Vedo tutto nero È più facile lasciarsi Che restare insieme È più facile accontentarsi A volte conviene Ma stavolta no Non mi accontento Non voglio vedere I miei piedi Fissati al cemento Sento il morale Che sale Tuolata di vento Voglio rompere Il muro del suono Per te non rallento Non ho bisogno Di sapere Come andrà Arriverà il momento In cui La vertigine Si dissolverà E resterò Sempre in volo Non ho bisogno Di sapere Come andrà Arriverà il momento In cui Questo vento Che mi trasporterà Mi porterà Sempre più Più La delusione Il sole Che lascia sul corpo Il segno E anche se non lo vedi La pelle lo ricorda E io ho pagato Così tante volte Pegno Che gli altri Ci hanno preso gusto Perché sono l'unico Che lo ricorda Sì mi è spezzata La corda Tanto che mi sento Mi ho agio in mezzo A questa orda Rattista del genere umano E sogni in una mano Scivolano nelle tasche Del dio denaro E se li rivuo Il pezzo è caro Dimmi come faccio a credere Ma se quelli che intorno Mi lasciano Il senso Perché Serate statiche Bevute alcoliche Anestetizzo i miei sensi Con sostanze narcotiche Se domani Che prendo gli occhi Piangerò lo stesso Con le lacrime Scometterò un altro Merit Sesto Sai che da solo Mi detesto Non lo manifesto Del resto Sono esposto Come un manifesto Non ho bisogno di capire E come andrà Arriverà il momento In cui Questo vento Che mi trasporterà Mi porterà Sempre più Mi porterà Sempre più Mi porterà Sempre più Mi porterà Sempre più Mi porterà Mi porterà Sempre più Mi porterà Sempre più Mi porterà Sempre più Mi porterà Non ho bisogno di sapere Come andrà Arriverà il momento In cui La vertigine Si dissolverà E resterò Sempre in volo Non ho bisogno di sapere Come andrà Arriverà il momento In cui Questo vento Che mi trasporterà Mi porterà Sempre più Mi porterà Mi porterà Mi porterà Sempre più Mi porterà Mi porterà Mi porterà Mi porterà Mi porterà Mi porterà Sempre più Mi porterà 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 Grazie.